Significativa e gioiosa iniziativa presso la parrocchia della Santissima Trinità di Barletta dove tanti bambini, ragazzi e giovani sono stati coinvolti in una grande festa di sport e di aggregazione nel nome di Padre Pio. Vediamo le immagini in questo servizio. Una corsa riservata a bambini, ragazzi e giovani per far festa in onore di Padre Pio si è svolta domenica scorsa a Barletta per l'iniziativa dell'Oratorio San Domenico Savio e della parrocchia della Santissima Trinità affidata alla cura pastorale di Don Cosimo Damiano Falconetti ordinato sacerdote nel 2000 nel giorno della morte e della festa liturgica di San Pio da Pietrelcina il 23 settembre. Questa festa la vogliamo perché sia per la nostra comunità parrocchiale che insiste in un territorio di periferia ma molto vivace sia per i ragazzi un momento di sana aggregazione e di conoscenza in Gesù riscoprendo i propri talenti e sia una giornata, dicevo, ai ragazzi e ai bambini da trascorrere meno sui social, meno sugli smartphone e più social essere più fratelli, più sorelle, stare insieme nella fraternità e poi perché festa di San Pio? Perché la leghiamo ogni anno alla memoria di San Pio del 23 settembre Padre Pio che ci ha insegnato tanto l'amore per Gesù, l'amore per la Chiesa, l'amore per la vita e per la salute allora questa corsa in festa deve significare il rispetto per la vita di ognuno, il rispetto per la salute e il rispetto anche per l'ambiente. L'evento ha coinvolto le nuove generazioni di Barletta modulando il percorso in base alla loro età i più grandi che hanno superato i 16 anni hanno dovuto compiere un tragitto dai 4 agli 8 chilometri mentre ai più piccoli con meno di 6 anni è stato riservato un tratto simbolico di appena 80 metri oltre ai premi per i vincitori delle varie corse, distinte sulla base delle età e dei percorsi a ciascun partecipante sono stati garantiti il pacco gara e la medaglia di partecipazione infine per tutti c'è stato un momento di ristoro in allegria sulla base di un antico concetto rialaborato in chiave spirituale anima sana in corpore sano Personalmente come medico terziario francescano credo molto in quello che dice padre Pio ha perfettamente ragione il medico è una missione una missione per stare insieme agli ammalati per aiutarli in quel momento di difficoltà grazie a tutti